In questo capitolo parliamo di alcune caratteristiche dell'anatomia esterna e di quella interna di un pesce. Innanzitutto ci concentreremo soprattutto sui pesci ossei perché sono la stragrande maggioranza e ci limiteremo solo, per quanto riguarda gli squali o i pesci cartilaginei, ad elencare alcune delle principali differenze. Secondo, non parleremo ovviamente di tutti gli organi dei pesci, ma soltanto di quelli che troviamo unicamente in questo gruppo di vertebrati e che sono connessi con la vita in ambiente acquatico. Questo è uno schema dell'anatomia esterna di un pesce osseo, dove vediamo alcune caratteristiche già molto particolari, che sono le scaglie che rivestono la pelle, le varie pinne che hanno una funzione nel movimento del pesce e nel nuoto in acqua, e le branchie, che sono il principale organo respiratorio dei pesci. Per quanto riguarda il rivestimento della pelle, noi vedremo che in ciascun gruppo di vertebrati la pelle è rivestita da una struttura specifica e le strutture che rivestono la pelle sono ciò che distingue un gruppo di vertebrati da un altro. Nel caso dei pesci, la pelle è rivestita da scaglie che sono fatte di osso vero e proprio. Si tratta ovviamente di un residuo evolutivo, perché i primi pesci comparsi sulla Terra, molti molti milioni di anni fa, avevano addirittura un'armatura, una corazza di osso, che racchiudeva il loro corpo. Quella corazza in seguito è scomparsa e, come ricordo, se così possiamo dire, sono rimaste queste scaglie che nei pesci ossei sono sovrapposte, si dice che sono scaglie embriciate, fatte di osso, molto sottili, che si tolgono facilmente. Tutti quanti avrete visto squamare un pesce per poi poterlo cucinare. E vediamo qui dal vivo uno zoom su come sono fatte le scaglie di un pesce osseo e su come è facile rimuoverle. A differenza degli altri vertebrati, i pesci non hanno degli arti, ovvero non hanno delle braccia e delle gambe, ma hanno un tronco piuttosto massiccio e compatto, al quale si attacca direttamente la testa, per cui i pesci non hanno collo, e il tronco ha uno scheletro interno, una colonna vertebrale con delle costole, la cosiddetta lisca, avvolto da strati di muscolatura piuttosto poderosi e piuttosto possenti. Quindi il nuoto di un pesce è dovuto alle contrazioni della muscolatura del tronco. Come detto, non ci sono gli arti, però ci sono queste pinne molto sottili, molto flessibili, le quali però non hanno una funzione propulsiva, perché non hanno una loro muscolatura. Sono quindi semplicemente degli stabilizzatori, ovvero mantengono il pesce in equilibrio durante il nuoto. In un pesce osseo abbiamo due tipi di pinne, pinne pari e pinne impari. Le pinne impari sono quelle presenti in singola copia e sono in posizione mediana. Per quanto riguarda invece le pinne pari, sono quelle, di cui qui ne vediamo soltanto una, sono le pinne pelviche o posteriori e le pinne pettorali o pinne anteriori, delle quali qui ne vediamo soltanto una perché il pesce è di profilo, ma si chiamano pinne pari perché ce ne sono due disposte simmetricamente attorno al tronco. Nel video vediamo come sono distribuite le pinne di un pesce. Innanzitutto le due pinne pettorali, quindi iniziamo dalle pinne pari e le due pinne posteriori o pinne pelviche. Le pinne impari sono invece la pinna anale, la pinna dorsale e soprattutto, importantissima, e qui ci fermiamo, la pinna caudale, che ha una funzione importante perché le contrazioni della muscolatura del tronco che fanno muovere il pesce si scaricano proprio a livello di questo peduncolo più o meno sottile che va ad ancorare la pinna caudale al corpo del pesce, la quale pinna caudale funge anche da timone. Infatti nei pesci buoni nuotatori, come il tonno che abbiamo visto l'altra volta, abbiamo una pinna caudale molto slanciata a forma di mezzaluna ed un peduncolo non così tozzo come nel pesce rappresentato qui, ma anzi allungato e sottile, e quindi una forma più marcatamente idrodinamica e adatta al nuoto veloce. La pinna caudale nei pesci ossi è generalmente simmetrica, ovvero è suddivisa in due lobi che però hanno la stessa estensione e le stesse dimensioni. Per quanto riguarda la respirazione, i pesci, come tutti gli organismi acquatici, respirano tramite branchie, che sono delle proiezioni degli epiteli interni, dei rivestimenti interni del corpo proiettate verso l'esterno, tramite i quali filtrano l'ossigeno che è disciolto all'interno dell'acqua in cui vivono. Nei pesci ossei le branchie non sono visibili all'esterno perché sono coperte da un coperchietto fatto di osso che viene chiamato opercolo. Abbiamo trovato le branchie anche in altri organismi acquatici, invertebrati come i molluschi e come i crostacei, però nei pesci, che sono animali più evoluti, le branchie costituiscono un organo più complesso e perfezionato. In questo video vediamo come apparirebbero le branchie di un pesce osseo, vediamo come queste lamelle molto sottili, una volta rimosso l'apercolo, appaiono queste lamelle molto sottili, questi sottili filamenti, al cui interno circola il sangue. Qui vediamo il flusso di acqua nella bocca di un pesce e vediamo l'animazione che ci mostra proprio il ruolo delle branchie come apparato per la filtrazione dell'ossigeno. Nei pesci le branchie hanno solo funzione respiratoria in quanto, essendo presenti nella bocca, mascella e mandibola, possono alimentarsi in altro modo e non per filtrazione. In quest'altro schema vediamo l'anatomia interna di un pesce. Ovviamente non ci soffermiamo sugli organi come il fegato, il tubo digerente, i reni, che sono presenti anche negli altri vertebrati, ma ci soffermiamo al contrario su un organo che è caratteristico dei pesci ossei e solo dei pesci ossei, che è questo indicato nello schema in rosa, che si chiama vescica natatoria o vescica gassosa e che è presente unicamente in questo gruppo di animali. La vescica gassosa, tra poco vedremo l'animazione o vescica natatoria, è un sacchetto, una specie di palloncino presente nel corpo del pesce, che si può gonfiare o sgonfiare prelevando gas, soprattutto ossigeno, dai vasi sanguigni, alla funzione di mantenere il pesce a galla. Il corpo di un pesce ha una densità che è paragonabile a quella dell'acqua. Un pesce si sposta in acqua non soltanto in orizzontale, ma anche in verticale, cioè nell'ambito anche della stessa giornata si sposta anche tra diverse profondità dell'acqua in cui vive. Di conseguenza, quando il pesce si deve muovere verso l'alto, ovvero deve risalire in superficie, la vescica natatoria preleva gas dal sangue, si gonfia, in questo modo il pesce si alleggerisce e risale verso l'alto. Al contrario, quando invece il pesce deve scendere in profondità, tramite il meccanismo inverso, la vescica natatoria si sgonfia, il corpo del pesce diventa più denso e può quindi scendere a profondità maggiori, più agevolmente. La vescica natatoria ovviamente è presente nei pesci pelagici, ovvero quelli che fanno vita di mare aperto. Nei pesci invece di forma appiattita, come le sogliole, che vivono aderenti al fondo, la vescica natatoria è presente, ma è poco sviluppata e non funzionale. Inoltre la vescica natatoria, come vedremo, è del tutto assente negli squali e negli altri pesci cartilaginei. Vediamo qui un'animazione di come è fatta la vescica natatoria, di come segue le migrazioni in verticale del pesce. Ricordiamo che si tratta di un organo molto importante da un punto di vista evolutivo, in quanto è quello che ha dato origine ai polmoni. Qui vediamo la vescica natatoria che si gonfia e il pesce che risale verso l'alto. Si sgonfia e il pesce scende. Per quanto riguarda strutture nervose ed organi di senso, possiamo dire che nei pesci è presente una sensorialità più adattata alla vita in acqua. Molti pesci, soprattutto le forme dove il maschio presenta delle colorazioni vivaci, hanno una vista sviluppata, ma in molti altri, come ad esempio gli squali, la vista è poco sviluppata e invece abbiamo un senso chimico, l'olfatto, la percezione quindi di piccole concentrazioni di sangue ad essere estremamente sviluppato. Ed è questo che rende gli squali carnivori, come lo squalo martello, pericolosi per l'uomo. L'udito nei pesci non è presente, quindi i pesci sono animali non in grado né di emettere né di ricevere suoni. Si dice infatti essere muto come un pesce. È presente però un senso simile e collegato a quello dell'udito, cioè le cui strutture microscopiche sono fatte in modo simile, che è presente ovviamente solo nei pesci perché è legato alla vita acquatica e si chiama organo della linea laterale. L'organo della linea laterale è dato da una serie di forellini presenti in una appunto linea, quindi allineati lungo il corpo del pesce e concentrati intorno alla testa. È un organo molto importante ed utile in acqua perché percepisce in maniera molto fine ad alta sensibilità le correnti d'acqua. Di conseguenza un pesce, pur non udendo suoni, può però percepire tramite piccoli movimenti d'acqua la presenza di altri pesci o di prede o predatori nelle sue prossimità. Nell'animazione vediamo dove è collocato quest'organo, vediamo che sono tutti i recettori o forellini che sono allineati bene lungo il corpo del pesce. Ecco perché si dice la linea laterale. Per quanto riguarda le caratteristiche riproduttive, i pesci sono per lo più assessi separati. Nei pesci ossei la fecondazione è esterna, ovvero la femmina depone le uova all'esterno del proprio corpo e successivamente il maschio le feconda con il proprio sperma. Quindi non abbiamo un accoppiamento vero e proprio. Quindi anche lo sviluppo embrionale è all'esterno del corpo, sono animali ovipari. Al contrario, invece, molte specie di squali hanno una fecondazione interna. Tra poco vedremo le differenze anatomiche tra squali e pesci ossei, ma hanno le pinne pelviche a cui sono associati degli organi copulatori con cui inseriscono direttamente lo sperma nelle aperture genitali della femmina. Non solo, ma in molte specie di squali, oltre ad essere interna la fecondazione, abbiamo anche uno sviluppo embrionale all'interno del corpo materno e quindi molti squali si possono considerare addirittura vivipari. Tornando ai nostri pesci ossei, abbiamo visto che c'è spesso dimorfismo sessuale. In molte specie, il maschio è diverso dalla femmina e spesso è più variopinto, ovvero ha dei colori più sgargianti che fungono da attrattivo sessuale. È questo il caso, ad esempio, della donzella pavonina di cui vediamo la colorazione del corpo olivrea femminile e vediamo quella invece molto più vivace dell'individuo maschile. In questa specie succede anche un'altra cosa molto particolare, ovvero vediamo l'ermafroditismo sequenziale. Che cosa significa ermafroditismo sequenziale? L'ermafroditismo sequenziale sia quando i pesci nascono tutti dello stesso sesso e poi invertono il loro sesso nel corso della loro vita. E questa è una caratteristica che troviamo solo in alcune specie di pesci ossei. Che cosa significa? Nel pesce donzella gli individui nascono tutti femmine, arrivati ad una certa età invertono il loro sesso e diventano maschi. Questo perché succede? Perché un maschio più grande ha un maggior controllo del territorio. Si tratta infatti di una specie territoriale. In altre specie di pesci abbiamo un ermafroditismo sequenziale che funziona al contrario, ovvero abbiamo individui che nascono di sesso maschile e a una certa età diventano femmine. In questo caso può essere collegato ad un'altra strategia. Ad esempio, una femmina più grande può produrre più uova. Per quanto riguarda le differenze anatomiche che presentano gli squali rispetto ai pesci ossei, oltre a quelle già dette possiamo dire che la bocca è in posizione ventrale anziché apicale e quindi sta al di sotto di un muso che è più allungato rispetto a quello di un pesce osseo. Le branchie non sono provviste di opercolo, quindi non hanno questa copertura ossea, ma sono alloggiate all'interno di queste fessure che sono visibili esternamente e si possono quindi anche contare. Per quanto riguarda le pinne c'è un'importante differenza per ciò che riguarda la pinna caudale. Infatti abbiamo detto che quella dei pesci ossei è asimmetrica. Anche quella degli squali è divisa in due lobi, però questi due lobi sono decisamente diversi tra di loro, tanto che si parla di coda asimmetrica. In particolare, il lobo dorsale rivolto verso l'alto è molto più lungo. Questo probabilmente favorisce il galleggiamento del pesce in quanto, come sappiamo, gli squali sono privi di vescica natatoria. Il galleggiamento è favorito da questa forma della coda e dal fatto che all'interno del loro corpo presentano dei materiali di natura oleosa, di natura grassa, che abbassano la densità dell'animale e quindi gli impediscono di andare a fondo. Già si è detto sulle caratteristiche riproduttive degli squali, alcuni, a differenza dei pesci ossei, hanno fecondazione interna e sono addirittura vivipari. Grazie.